Nell'ultimo consiglio direttivo, il Parco Nazionale della Maiella ha deliberato l'avviamento dell'iter per l'ampliamento dell'area. L'iter, avviato su proposta del presidente del parco, Lucio Zazzara, prevede la rimodulazione e la revisione dei confini. A quasi 30 anni dall'istituzione del parco, Zazzara ritiene che sia giunto il tempo di prendere atto dei profondi cambiamenti relativi sia del patrimonio tutelato che dei nuovi contenuti della governance territoriale. La convinzione sarebbe figlia del successo della gestione trentennale e del rapporto nuovo stabilito con le popolazioni e le istituzioni locali. Certo, ci sono a mio avviso le condizioni migliori in questo momento per tre fattori essenzialmente. Innanzitutto l'innegabile successo delle politiche di tutela ambientale che in questi anni hanno prodotto non solo la salvaguardia del patrimonio che avevamo qualche anno fa ma anche il suo allargamento, lo vediamo ogni giorno insomma in questa regione. Poi c'è la questione della diversità delle condizioni generali, del rapporto con il territorio e in terzo luogo non si può negare che noi abbiamo coltivato molto un buon rapporto con gli enti locali, con le associazioni, con tutti i soggetti che si muovono sul nostro territorio e questo ci mette in grado di parlare anche della possibilità di modificare i confini del parco. Il parco avrebbe già individuato almeno 4 o 5 ambiti che potrebbero entrare a far parte del sistema interno. Questa cosa dovrà essere vagliata molto attentamente in primo luogo con le popolazioni locali e con i nostri amministratori locali. Sono sempre i nostri partner, noi esprimiamo una grande progettualità continuamente e affronteremo questo problema insieme. Sui tempi di attuazione il presidente Zazzara ha aggiunto infine che... I tempi sono molto variabili, dipende molto dall'impegno dei soggetti interessati. L'iter è un iter complesso perché questa, trattandosi di un parco nazionale, ovviamente l'iter deve necessariamente svilupparsi con una partecipazione dello Stato. Credo comunque che, come è successo in altri casi simili ultimamente, credo che se si parte con una proposta di base che viene dal territorio piuttosto forte e vista la buona collaborazione che abbiamo sempre avuto con la regione, io credo che l'iter si potrebbe concludere nel giro di due o tre anni.